Si avvicina l'appuntamento con le elezioni amministrative che quest'anno coinvolgono tanti comuni della nostra zona. Come si sta muovendo in questa fase il Partito Democratico in Alta Val Seriana? Il momento sicuramente non è facile a livello di fiducia nelle istituzioni e voglia di partecipare. Io credo però che sia proprio in questo momento di sfiducia un po' generalizzata verso le istituzioni politiche in primo luogo che ci sia bisogno di quanti più cittadini che abbiano voglia di tenere gli occhi ben aperti su quello che succede nei propri comuni, in provincia, in regione fino ad arrivare a Roma. Quindi il primo aspetto sul quale noi vogliamo lavorare è quello della partecipazione il più diffusa possibile e quindi speriamo che ci sia la voglia da parte di tutti i cittadini di rimboccarsi le maniche e dire la propria ed esserci in questi mesi nelle quali si andanno a costituire le liste civiche, le liste per le amministrative che coinvolgono 13 comuni su 20 in Alta Valle Seriana. Per coinvolgere le persone credo sia indispensabile partire da dei temi forti. I temi sui quali come Partito Democratico abbiamo sempre puntato e sui quali vogliamo impegnare tutte le liste con un programma che sia omogeneo per l'Alta Valle Seriana sono tre innanzitutto. Sono quelli della scuola, dei servizi sociali e delle unioni di comuni. Sono tre temi sui quali pensiamo si possa costruire un'agenda per i prossimi cinque anni sull'Alta Valle Seriana. Nello specifico in quali comuni state lavorando per arrivare alla formazione di liste? Sì, diciamo che nella zona dell'Unione Presolana il tema centrale è quello delle fusioni. Quindi la nostra speranza è che gli amministratori che verranno, quindi quelli che saranno eletti in seguito all'elezione di maggio, vogliono continuare questo percorso di aggregazione che è l'unico in grado di mantenere quei servizi e anzi migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino sul nostro territorio. Quindi sposeremo, appoggeremo questo percorso anche attraverso le liste civiche nei diversi comuni. Pensiamo a Cerete, a Fino del Monte dove le liste civiche attualmente in minoranza si presenteranno proprio con questo tema come cavallo di battaglia, così come nei comuni più piccoli, a Onore e a Son Gavazzo, dove noi pensiamo che l'amministrazione futura dovrà avere una durata abbastanza breve, di un anno, un anno e mezzo, tale in maniera anche unitaria, quindi anche con una possibile lista unica da guidare il paese verso questo percorso di aggregazione guidato. Noi ci auguriamo che possa continuare, appunto anche dopo le elezioni, da rovetta come capofila. Negli altri comuni? Sì, negli altri comuni si sta procedendo appunto con questo lavoro di costruzione delle liste civiche. Penso alla zona, appunto dopo il cambio di amministrazione a Villadogna nel 2013, si sta lavorando per far sì che anche la futura amministrazione di Piario sia continui ad essere calda e a spingere sul tema dell'unione dei comuni insieme ad Ardesio e a Oltresendo. Un percorso che noi ci auguriamo vorranno intraprendere anche i paesi dell'Alta Valle, quindi Valgoglio, Gandellino, Gromo e Val Bondione nella maniera più seria e più rapida possibile. Si sta lavorando a Parre, così come a Ponte Nossa, Premolo e in questa realtà, così come in quelle che citavo prima, l'occasione che pensiamo possa essere buona e positiva per radunare, raccogliere ulteriore partecipazione è quella di un corso di formazione per giovani amministratori, un corso molto dinamico, fatto sia di una parte teorica ma soprattutto di esperienze dirette di amministratori che stanno vivendo i continui mutamenti delle normative ed anche tutte le problematiche legate ai comuni che organizziamo come PD in Alta Valle Seriana tra la metà di febbraio e la metà di marzo.